Come on, come on, come on, na 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 Eccoci qua, eccoci qua, questa è la prima edizione di serata Moda Musica Happy Hour Prima edizione di questo evento Moda San Giustese nato dall'idea dei negozianti del centro storico allargato poi alle ditte san giustesi che lavorano appunto nel mondo della moda grazie al sostegno della Proloco di Monte San Giusto e del comune di Monte San Giusto Questa volta passiamo alle miniature 100% Made in Italy di E.B. Creazioni Orafe di Elena Baldassari un laboratorio per la creazione di gioielli metalli preziosi e pietre dure La cura e l'esperienza delle antiche botteghe orafe incontra la contemporaneità del design moderno dei suoi nuovi materiali, colori e forme Questo laboratorio fornisce alle piccole come alle grandi imprese nel settore moda dei gioielli finiti Realizza anche pezzi unici e ripetibili su richiesta dei singoli privati Tutta la produzione dei gioielli è interamente curata in Italia dalla progettazione alla realizzazione Quindi facciamo un grande applauso sempre al Made in Italy che dobbiamo sostenere soprattutto in questo periodo Il primo quadro per l'appunto di Elena è Zip Zip come cerniera, chiusura lampo ma anche come energia, entusiasmo, spinta, vigore Allora Zip il quadro di EP Creazioni Orafe di Elena Valdezzarri Il primo quadro per l'appunto di Elena Valdezzarri Il primo quadro di прим Grazie a tutti 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 Grazie a tutti